L'hanno chiamato in tutti i modi, la bolla dei tulipani 2.0, un disastro ambientale, idealismo libertario, strumento da becchini, riciclatori e spacciatori di pentole. Bitcoin è la più grande bolla della storia e sono rimasti delusi, sono rimasti ampiamente delusi, perché in realtà Bitcoin è semplicemente un naturale salto evolutivo. Come loro il Bitcoin è una moneta sovranazionale, il che significa che nessuno stato nel mondo può decidere chi e come deve essere usato, quanto vale o chi può usarlo. Hanno capito finalmente che non può essere neanche eliminato in maniera unilaterale tramite una regolamentazione. Qualcuno di voi si ricorderà il ban della Cina. Il ban della Cina sul mining, no? È quel crollo di prezzo. Non ve lo ricordate più? Immagino. Ormai quel ban della Cina è superato. Non funziona. Quindi era naturale non ripetersi. Il fatto di essere un denaro sovranazionale ha portato enormi benefici a cui abbiamo potuto assistere con i nostri occhi in questi mesi. Qualcuno di voi si ricorderà la protesta dei camionisti contro le restrizioni da Covid in Canada e qualcuno di voi si ricorderà le decisioni del governo di chiudere i rubinetti dei loro contocorrenti. Ebbene, quella protesta di libertà fu finanziata di fatto da donazioni in Bitcoin. Vi ricordo cosa è successo qualche settimana fa alla lira turca che si è svalutata di più del 40%. Cosa è accaduto in passato in Venezuela? Cosa è accaduto al rublo russo? Ebbene, molti soggetti, molte persone, non stati, non Putin, no, i russi proprio, grazie a Bitcoin hanno potuto preservare il loro diritto di far circolare una valuta, di tutelare il proprio risparmio. E la stessa cosa è accaduta all'Ucraina, che ha potuto ricevere donazioni per finanziare la difesa all'interno di tutta questa storia. Non entro nel merito di tutte queste questioni, perché Bitcoin non entra nel merito. Bitcoin non fa distinzioni, perché Bitcoin è un protocollo, non è un'entità centrale che può decidere di vietarlo o proibirlo. E pare, pare che i governi l'abbiano capito. Chi vi ha detto in questi ultimi anni, e la lista sarebbe lunga, che i governi degli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea avrebbe proibito Bitcoin e le criptovalute, si deve ricredere. Vi siete sbagliati, vi siete sbagliati di grosso. Ora Bitcoin rilancia, ora inizia una sfida a livello globale, per il futuro, nel nuovo mercato, chiamiamolo così, finanziario digitale. La sfida è appena partita. Una volta che si è capita l'accettazione da parte degli attori, degli Stati, il tutto adesso può svolgersi regolarmente. A proposito di regolarmente, le regolamentazioni, vero, porteranno degli sconquassi in questo mondo, soprattutto a certi tipi di asset. Ma anche questo è, che cosa? Un segnale di accettazione da parte dei governi del mondo. Le criptovalute, ragazzi, che vi piaccia o no, sono qui per restare. È cambiato tutto. È cambiato completamente lo scenario. Capisco che per molti di voi che sono nel mondo cripto tutti i giorni a leggere le notizie, le date per scontate, insomma. È normale che sarebbe andata a finire così. Ma non è normale. Il 15 febbraio scorso abbiamo avuto la prima mossa da parte della Russia, del ministro. Il ministero dello sviluppo economico ha detto bisogna creare una legge per abbattere i costi per i minor. Settimana scorsa è arrivato il nulla osto da parte degli Stati Uniti d'America e ieri il grande blef dell'Unione Europea. Tutto ciò all'interno dello scenario geopolitico attuale, quello che stiamo vivendo, fatto di incertezza sul futuro, fatto di un'inflazione fuori controllo, fatto purtroppo di scontri, di una guerra, fatto da guerre finanziarie, oltre che informative. La sfida è adesso, all'interno di questo scenario geopolitico. Siamo tutti curiosi di capire che cosa accadrà al Bitcoin nei prossimi mesi, come reagirà a determinati tipi di eventi. E saremo qui a commentarlo. Ma nel frattempo dobbiamo mettere una linea. Oggi, nel 2022, Bitcoin non è più una bolla. Bitcoin non è la bolla dei tulipani 2.0. Bitcoin e le criptoalute non verranno proibite. Ottenuto questo risultato, si può andare avanti. Ci vorrà tanta pazienza. Ma ora inizia la grande sfida. Bitcoin è denaro contante, mezzo di pagamento e riserva di valore. Ne passerà di acqua sotto i ponti. Ne vedremo di belle e di brutte. Ci vorrà del tempo. Ma si convinceranno anche di questo. Non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi.